Finale Caderissi-Bargagli 2-1, oggi amplendi tutto lo staff del Caderissi, abbiamo con noi Alfio Scala, il presidentissimo che è una chicca, non si fa mai intervistare, oggi è particolarmente felice. Alfio, partiamo con te, prima della partita mi hai detto ho 10 persone fuori, poi si come ti piacciono i numeri dispari, Costa non ce l'ha fatta e siamo andati a 11. Esatto, no ma non era per mettere le mani avanti, il discorso è che alla prima di campionato ci aspettavamo quantomeno di avere più scelte, così comunque non ho avuto l'opportunità di sbagliare, quelli che avevo li ho messi in campo, quindi è andato bene così. No, non è una questione, quelli che sono stati in campo hanno fatto benissimo, non avevo dubbi che si sarebbero impegnati alla morte, perché comunque questo è un gruppo dove i valori sono abbastanza allineati, il problema era forse più un problema di ruoli, che oggettivamente anche se tu hai 11 giocatori, c'hai tutti i difensori, diventa un problema mettere in campo, quindi solo quello, per il resto devo ringraziarli perché hanno fatto una partita veramente buttando il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, quindi sono bravissimi loro. Siete riusciti andando spesso in verticale velocemente a portare bargagli sul vostro stesso tipo di gioco, cioè anche loro che sono nati forse per manovrare di più si sono trovati invischiati in una partita in cui poi hanno verticalizzato e forse non hanno sfruttato le loro caratteristiche. Noi avevamo preparato la partita per evitare che giocassero sugli esterni, abbiamo cercato di togliergli le linee di passaggio, soprattutto loro tecnicamente sono molto bravi in mezzo, però abbiamo fatto densità, abbiamo portato un giocatore in più giocando con tre quartisti in mezzo al campo e chiaramente ristringendoci gli spazi loro hanno trovato molta difficoltà. Poi noi quando ripartiamo anche sulle palle lunghe attacchiamo la seconda palla, quindi possiamo mettere in difficoltà qualunque squadra sulle ripartenze, quindi il motivo della partita è stato questo, loro sono molto bravi tecnicamente e noi abbiamo cercato di ostacolarli e ostacolargli quelle che sono le loro qualità. Presidentissimo Graffione invece ci può raccontare come mai alla prima giornata di campionato così tanto nervosismo, sarà l'affluenza del pubblico? Sì, può darsi, troppa gente presente sugli spazi. No, penso che era una partita sicuramente sentita, dopo un lungo stop i ragazzi sicuramente avevano voglia di giocare, l'abbiamo visto in settimana, giovedì, che mi facevano notare che erano abbastanza nervosi e comunque otto mesi senza giocare, sicuramente avevano la voglia di esprimersi e di scaricare le tensioni accumulate. È dal 17 di agosto che si allenano e quindi avevano un po' di carica che ci ha portato sicuramente a vincere una bella partita. Perfetto, fino alla prima di ritorno non ti intervisto più. È l'ultima del ritorno, se la giocheremo. Ok, no, speriamo di sì. Alfio, quando parliamo di seconde linee con tutto rispetto per chi ha giocato, rispondono così, che cosa provano l'allenatore? No, ma te l'ho detto prima nell'analisi della partita, questo è un gruppo che oggettivamente non ci sono seconde linee, è un gruppo molto omogeneo. Oggi la difficoltà era soltanto nella ricerca dei ruoli, davanti eravamo in grossissime difficoltà, ci mancavano 4 punte e i ragazzi che hanno giocato hanno fatto benissimo, giovani peraltro, un 2001, un 2000, subito siamo partiti così, poi si è fatto male il 2000, quindi voglio dire, oggi è stata una giornata un po' così. Era solo una questione di ruoli, io sono convinto che tutti i ragazzi, tutti i 24, quelli che siamo, quando giocano in un contesto possono fare bene, oggi hanno fatto benissimo, quindi va bene così. Ok, grazie mille, forza accade. Grazie, grazie.